Il freddo non sta bloccando la diffusione dell'epidemia di Bluetong, la lingua blu in Sardegna, e specie nella provincia di Cagliari sta continuando ad uccidere decine di capi ovini, mettendo in grave difficoltà le aziende. È quanto denuncia la Confagricoltura in una nota. Un'epidemia che, se non verrà bloccata in tempo, rischia di avere effetti devastanti su tutto il comparto zootecnico sardo. Gli allevatori, memori dei danni provocati nel 2003 dalla vaccinazione, si legge in una nota della Confagricoltura, sono terrorizzati per i possibili effetti della prossima campagna che dovrebbe partire a maggio, e chiedono di prevedere gli indennizi per gli eventuali danni e la certificazione per iscritto delle perdite produttive aziendali. L'emergenza sanitaria deve essere affrontata, secondo la Confagricoltura, istituendo un tavolo tecnico-scientifico interdisciplinare che veda la partecipazione delle ASL, dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, dell'Associazione regionale allevatori. Occorre creare un'equipe scientifica che si dedichi a monitorare la lingua blu e nuovi virus. Gli allevatori, continuano la nota, denunciano la mancanza di un raccordo per la competenza tra l'assessorato, l'ARA, i veterinari e l'Istituto Zooprofilattico. Pertanto risulta impossibile calcolare con esattezza le perdite produttive aziendali. Inoltre, gli allevatori sono preoccupati per il diffondersi di nuove patologie come la CAEF e il morbo di Smallenberg, che, partito dalla Germania, si sta propagando anche negli allevamenti della Sardegna. La conseguenza drammatica di questa nuova epidemia è un possibile calo nella produzione del latte di un 50%.